La stretta relazione tra innovazione e sostenibilità e l'equiparazione tra tutela dell'ambiente e salute alimentare sono, in estrema sintesi, i valori guida per promuovere il contributo dell'agricoltura alla crescita e al rilancio del Paese. Questo si legge nel rapporto commissionato da Confagricoltura e Reale Mutua con un questionario da oltre 230 variabili sottoposto a 2.162 aziende agricole su quattro settori. Sostenibilità ambientale, qualità dello sviluppo, gestione dei rischi e delle relazioni e sostenibilità sociale. Il valore del settore agricolo, secondo l'Istat, supera i 56 miliardi di euro, siamo terzi in Europa dopo Francia e Germania. Mentre siamo primi per il valore aggiunto con più di 31 miliardi di euro. E siamo sempre sul gradino più alto del polio per i prodotti di qualità con i marchi DOP, IGP e STG, specialità tradizionali garantite. Un risultato ottenuto nonostante l'orografia ostile al settore. In Italia, meno del 25% del territorio è in pianura. L'agricoltura è alla base del sistema agroalimentare, un volano della competitività del nostro Paese che ha saputo reggere all'urto della pandemia e che, puntando su sostenibilità e innovazione, può aiutare a mitigare la crisi climatica, crisi che si ripropone in molteplici aspetti. E l'ultima minaccia all'orizzonte è l'emergenza idrica, con le riserve molto al di sotto della media stagionale, dalla Puglia al fiume Po, dove si registra una portata delle acque da estate piena.